La tua vita e la mia vita su questa terra finirà. La morte ci sta davanti, forse molto più vicino di quello che pensiamo, forse in avanti, ma anche per i giovani non sarà lontano, non alla luce dell'eternità. È stabilito che gli uomini muoiono una volta sola. Dopo di ciò c'è il giudizio. È possibile sapere con certezza di essere salvati e di avere la vita eterna? Esiste una parola sicura, una testimonianza affidabile? Chi possiamo credere? Nella vita siamo inondati di tantissime voci. Purtroppo non tutti dicono la verità. C'è lo Stato, ci sono le religioni, ci sono innumorevoli voci in Internet, ci sono le persone che ci circondano. E per ultimo c'è la voce del nostro ragionamento, i nostri pensieri. Purtroppo nessuna di queste voci dice sempre la verità. Infatti i nostri ragionamenti sono spesso, i nostri pensieri sono spesso spagliati. Non sono affidabili. Le religioni dicono tante cose che in realtà non vengono da Dio. Anche lo Stato, visto che è fatto di uomini, spesso dice cose non vere. Chi possiamo credere? Chi ha la testimonianza che è verace e sicura? E' estremamente importante avere una testimonianza sicura? Una testimonianza assolutamente affidabile, sulla quale costruire e fondare la nostra vita e la nostra eternità? Qual è la testimonianza che non ci deluderà? La testimonianza sicura che abbiamo è la testimonianza di Dio stesso, che ci comunica nella sua parola, la Bibbia. Stiamo studiando la prima epistola di Giovanni, uno degli Apostoli di Gesù, e stiamo arrivati al capitolo 5. In questo capitolo abbiamo iniziato a considerare la testimonianza di Dio riguardo a Gesù Cristo. Abbiamo visto che questa testimonianza è stata data tramite quello che Giovanni dice, lo Spirito, l'acqua e il sangue. Allora voglio riprendere. Primo Giovanni 5 dal versetto 6. Consideriamo la testimonianza sicura di Dio che ci fa avere la vita eterna e ci fa sapere di avere la vita eterna. Allora, prima di leggere, ricordate che nell'ultimo sermone, e se non ricordate potete andare a trovarlo sul sito, ho spiegato che la grandissima maggioranza, quasi tutti i manoscritti greci, non hanno la seconda parte del versetto 7 e la prima parte del versetto 8 e perciò credo che quello sia corretto. Infatti fila quando togli quello e quindi leggerò da 5 per contesto fino al 8, leggendo come credo che sia corretto. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Questo è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono d'accordo come uno. La testimonianza che abbiamo da Dio è che Gesù è il figlio di Dio. Questa verità che Gesù è il figlio di Dio, quindi che è anche il Cristo, comprende tante cose. Cioè quella è una, si potrebbe dire, una dichiarazione che comprende delle altre verità. Comprende il fatto che Gesù è pienamente uomo. Infatti dice Gesù, nato a Nazareth, cioè nato a Bethlehem, è cresciuto a Nazareth, è il figlio di Dio, che vuol dire che è pienamente divino, è il creatore di tutto. È diventato uomo, il figlio di Dio è diventato uomo, Giovanni ha spiegato, è venuto, per compiere la salvezza sulla croce. È risuscitato perché la morte non poteva tenerlo. Quindi la testimonianza che Dio dà riguardo il suo figlio è che il suo figlio è diventato uomo, ha compiuto la salvezza e è ritornato in cielo per tornare poi qui a giudicare il mondo. Come posso credere questo? Quali sono le prove? Ha menzionato la testimonianza dello Spirito e che è venuto anche con l'acqua e il sangue. Allora, lo Spirito Santo testimonia della divinità di Gesù l'uomo e di tutto che è il Cristo tramite varie cose, uno principale sono i miracoli. Ricordate in greco quando leggiamo miracoli di Gesù sono chiamati cose in greco? Segni, stessa parola per un segno stradale che indica una città a Roma, a destra giri qui, giri a sinistra là e i miracoli sono segni perché nell'Antico Testamento c'erano le profezie che Dio stesso sarebbe venuto e avrebbe compiuto i miracoli che Gesù ha compiuto e avrebbe salvato. Quindi lo Spirito operando in Gesù, compendo i miracoli, stava testimoniando questo è il Cristo, il figlio di Dio. Abbiamo visto nell'ultimo sermone che l'acqua rappresenta l'acqua del battesimo di Gesù e non l'acqua in sé ma l'avvenimento del battesimo quando Gesù fu battizzato nel fiume Giordano. Se ricordate Gesù ha visto lo Spirito scendere su di lui come una colomba e poi abbiamo sentito la voce del Padre dichiarando che Gesù, quell'uomo, nell'acqua è il figlio di Dio. leggo Matteo 3, 16, 17 Gesù è nell'acqua ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Una chiara testimonianza. La voce del cielo. Questo è il mio figlio, amato figlio. Quindi l'acqua dimostrava che Gesù è il figlio di Dio e poi il sangue che rappresenta la croce e tutto quello che è compreso con la croce, compreso la risurrezione che fa parte. E anche questa è una testimonianza che Gesù è il figlio di Dio. Abbiamo visto vari brani soprattutto in ebrei che spiega questo, mostra che Gesù è il figlio che è entrato nel tabernacolo in cielo, non con sangue di animali ma con il proprio sangue per compiere la salvezza per noi alla croce quando Gesù aveva detto è compiuto il vero nel tempio, si è spaccato da alto in basso mostrando che adesso c'è libero accesso al Padre. Quindi tramite gli avvenimenti della croce della risurrezione c'è la testimonianza che Gesù è il figlio di Dio, il Cristo. Quindi queste tre testimonianze, lo Spirito, l'acqua e il sangue sono d'accordo come uno, un'unica voce che dicono Gesù è il figlio di Dio, Dio incarnato, il Cristo che ha compiuto la salvezza. Questa è la verità che abbiamo da Dio, con la testimonianza dello Spirito, dall'acqua e del sangue. Tenendo questo in mente andiamo avanti adesso e leggiamo i versetti 9 e 10. Primo Giovanni 5, 9 e 10. Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande perché questa è la testimonianza di Dio che egli ha dato circa il suo figlio. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa il suo figlio. Questo brano inizia con il confronto fra la testimonianza degli uomini e la testimonianza di Dio. Noi accettiamo tutti i giorni la testimonianza degli uomini. Pensate a questo. Quando compriamo un prodotto in una scatola, una barattola chiusa, noi crediamo che dentro ci sarà quel prodotto. Tu vai al supermercato, tu vendi tantissimi prodotti, tu presumi che aprendo la confezione a casa, ci sarà quello. Ci credi. Quando vai fuori e usi il GPS, tu credi che gli uomini che hanno programmato questo aggeggio, che faranno in verità, che ti porteranno alle resenazioni e credi la loro testimonianza e tu segui quello che questa voce ti dice. Quando prendiamo una medicina, crediamo al dottore, crediamo alla casa farmaceutica che aveva prodotto quella medicina, crediamo a tutte queste persone, crediamo alla loro testimonianza di robe importanti. Quando ascoltiamo le notizie, leggiamo un giornale, tendiamo a credere la maggioranza delle notizie. Noi crediamo agli uomini tutti i giorni, in tantissimi modi. Crediamo agli uomini in cose piccole e in cose grandi. Eppure gli uomini sbagliano. Per esempio, la scienza dice una cosa e dopo qualche tempo cambia quello che dice. Io, che ho fatto liceo scientifico, tante cose che mi hanno insegnato come scienza adesso sono... no, no, non è vero quello. Abbiamo capito meglio e quello è sbagliato. Cioè, 50 anni fa ero a liceo, facendo liceo scientifico, corsi avanzati di scienza, imparavamo tante cose, poi anche all'università. Quante di quelle cose adesso non sono più valide? Nella mia vita, non nei secoli, nella mia vita ho visto questo. Gli uomini sbagliano. Gli uomini sbagliano per errore, gli uomini sbagliano a volte perché sono disonesti. Eppure accettiamo la testimonianza degli uomini. Allora, se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, uomini che possono sbagliare, uomini che a volte vogliono sbagliare per ingannarci, uomini che prendono le loro informazioni da altri che per conto loro possono sbagliare, quanto di più dobbiamo accettare e credere, credere di cuore la testimonianza di Dio. Cioè, noi crediamo alla testimonianza degli uomini, quanto di più dovremmo credere alla testimonianza di Dio? È infinitamente più grande, è infinitamente più attendibile. Dio è il creore di tutti e di tutto. Tutto quello che Dio dichiara è la verità, perché Dio è verità. Dio non può sbagliare, Dio è onnisciente, Dio non può imparare nuove cose che lo fanno cambiare idee, perché Dio già sa tutto. Dio è verità e non può mentire, Dio è santo. Tutto quello che Dio dichiara è assolutamente vero e attendibile. E perciò, mentre la testimonianza degli uomini può sbagliare o può essere perfino falso, la testimonianza di Dio è sempre vera, sempre sicura, sempre attendibile. Allora possiamo accettare la testimonianza di Dio con tutto il cuore, nonostante che a volte va contro quello che il nostro ragionamento dice. A volte va contro quello che io posso vedere con i miei occhi in quel momento. Ma no, non è possibile, perché? Non è possibile in base alla mia logica. Ma Dio fa quello che Dio dice che farà e non è minimamente legata alla nostra logica. Allora, la testimonianza principale di Dio riguarda il suo figlio, che Gesù, quel uomo, è il figlio di Dio venuto dal cielo, che è andato alla croce, Dio uomo, uomo Dio, per compiere la salvezza, pagare il debito che noi non potevamo pagare. È risuscitato, tornato in cielo, verrà per giudicare e in Lui, per fede in Lui, c'è il perdono, c'è la salvezza. Questa è la testimonianza di Dio. Allora, il versetto 10 ci dichiara la differenza fra chi ha vera fede nel figlio di Dio, quindi chi crede alla testimonianza di Dio, e dall'altra parte chi non ha fede in Cristo Gesù. Cioè, chi non ha creduto di cuore alla testimonianza che Dio ha reso circa il suo figlio. E voglio leggere di nuovo questo. E notate, uno può dire, ma io ci credo? No, io non sto parlando di credere intellettualmente. Sto parlando di credere col cuore, che mi aggrappo a Gesù per quello che dice di essere chi può salvarmi. Leggo il versetto 10. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo figlio. Chi crede nel figlio di Dio, ovvero chi veramente crede in Gesù Cristo come signore e salvatore, come chi paga per sé, non so, i demoni credono a livello intellettuale, loro sanno chi è Gesù. No, chi crede, chi si aggrappa a Gesù per la propria salvezza, ha la testimonianza di Dio in sé. Dio mette la sua testimonianza nel cuore di quella persona. Non è una questione intellettuale, no, no, proprio ha dentro di sé questa testimonianza. Dobbiamo capire che senza l'opera di Dio non possiamo credere di cuore in Gesù Cristo. Questo perché l'uomo naturale, ovvero l'uomo senza Dio, non può veramente comprendere le cose di Dio, la testimonianza di Dio. Leggo questo in Primo Corinzi 2, 12 a 16, anzi un po' lungo, 5-6 versetti, quindi se volete trovare Primo Corinzi 12, scusi, 2, Primo Corinzi 2, da 12 a 16. L'uomo naturale è l'uomo nella sua condizione naturale, senza l'intervento dello Spirito Santo. Quindi seguitemi mentre leggo. Primo Corinzi 2, dal versetto 12. E noi qui sono noi che abbiamo Cristo, sta parlando ai credenti, ai santi. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore, per poterlo ammaestrare, or noi abbiamo la mente di Cristo. Quando Dio salva una persona, lo Spirito Santo entra in quella persona e lo rende capace a comprendere veramente le verità di Dio, quello che non poteva veramente comprendere prima, poteva sapere intellettualmente, ma non afferrare nel cuore. E perciò chi è salvato ha la testimonianza di Dio in sé. Dio aveva già detto questo nell'Antico Testamento, aveva già detto in Geremia 31, che aveva messo la sua verità, la sua testimonianza, la sua legge nel cuore. Avrebbe scritto sul cuore, voglio leggervi quello. Tutti coloro che sono salvati conosceranno nell'Antico Testamento della profezia l'Eterno. Geremia 31, da 33 a 34. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore ed io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello dicendo, conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quando dice tutti conosceranno il Signore e nessuno insegnerà più al proprio fratello vicino, sta parlando di fra i salvati tutti conosceranno Dio. Insegnamento per crescere nella conoscenza, certo, ma non chi è Cristo, perché un vero credente sa chi è Cristo. Gesù Cristo è il figlio di Dio che è venuto e è morto per i miei peccati, perché se non sai quello non sei salvato. Chi crede nel figlio di Dio ha la testimonianza di Dio in sé, scritta sul proprio cuore da Dio. Allora, fermatevi e pensiamo a questo. Non crediamo in Gesù perché siamo bravi? Non possiamo dire, ah ma io ho sentito con anche i miei amici, ma solo io ho creduto. no, allora avresti da vantarti, avresti da innalzarti, ma non puoi dire quello perché non è vero. Non possiamo vantarci? Ah, perché noi abbiamo scelto di credere. Noi eravamo uomini e donne naturali. L'uomo naturale non può comprendere le cose dello Spirito di Dio, sono folia per lui. È stato Dio a cambiare il nostro cuore. È stato Dio a darci lo Spirito Santo che ci ha resi capaci a vedere e a capire la testimonianza di Dio riguardo al suo figlio. Noi siamo salvati, noi crediamo, noi abbiamo questa testimonianza in noi stessi a causa dell'opera di Dio in noi. Prego che questo ti possa colpire, che tu possa dire, allora signori non ho alcun merito, è stata un'opera tua dall'inizio alla fine. Certo, tu hai creduto, tu ti sei ravveduto se sei salvato. Per forza, ma non c'è salvezza senza quello. Eppure è stato Dio all'opera in te. Questo dovrebbe renderci eternamente grati a Dio. In contrasto con questo, chi non crede a Dio, ovvero chi non crede a quello che Dio dichiara di Gesù Cristo, chi non crede che Gesù è il Cristo, che è il figlio di Dio, o chi intellettualmente lo accetta ma non si aggrappa a Cristo perché non lo crede con tutto il cuore, dice, quella persona ha fatto di Dio un bugiardo. Quella persona ha fatto di Dio un bugiardo. Dio non è un bugiardo, ma la persona sta implicando che Dio è un bugiardo rifiutando quello che Dio dichiara. uno può dire di credere in Gesù Cristo eppure non credere alla testimonianza che Dio rende di lui. Per esempio, se uno nega che Gesù è pienamente Dio, ci sono persone, ma io credo in Gesù, ma per me non era veramente Dio. Non crede alla testimonianza di Dio. Se uno crede che Gesù, che il figlio di Dio, prima di morire, ha lasciato il corpo di Gesù umano, ci sono le sette che insegnano questo e quindi che non è morto come figlio di Dio, ma solo come uomo, non crede alla testimonianza di Dio. Se uno nega la verità della Trinità, oggi ci sono tanti che, ingannati da alcuni che spargiano cose false e queste persone, oh sì, è vero, è vero, è un'invenzione della Chiesa. No, non è un'invenzione della Chiesa. Gesù Cristo è pienamente Dio. Dio Padre è pienamente Dio e sono separati come lo è anche lo Spirito Santo, perché abbiamo letto Matteo, questo è il mio figlio amato, in cui sono più in Padre Giovanni 14 dice, glorifichami tu con la gloria che avevo presso di te, prima della fondazione del mondo. Questi sono non un essere che si presenta in più modalità, questi sono un Dio ma in tre persone dove c'è amore. Gesù glorificava il Padre, il Padre amava il figlio. E se uno nega quello, nega la testimonianza di Dio e non ha la verità in sé. Se uno crede che la salvezza si possa ottenere per le buone opere o per i sacramenti, devo fare di più per essere salvato, devo fare di più per essere salvato, nega la testimonianza di Dio, che no, la salvezza è solo in Gesù Cristo. Quindi non è che uno dice, ma io credo in Gesù, ma cosa intendi tu con credi in Gesù? È giusto scavare, è giusto scavare, perché se uno nega la testimonianza di Dio, allora rende Dio un bugiardo. Quando pensiamo ai peccati, tendiamo a pensare ai peccati gli uni verso gli altri. Pensiamo ai peccati uomo contro uomo, omicidio, adulterio, furto, peccati l'uno contro l'altro. Sono peccati gravissimi. Però dobbiamo capire quanto è grave ancora di più di non credere alla testimonianza di Dio. Tante persone dicono, ah, ma è una buona persona. Sì, ma non crede alla testimonianza di Dio riguardo a Gesù Cristo. Non si ravvede per aggrapparsi a Cristo. Sì, ma ha fatto tanto bene, implicando che quindi Dio dovrebbe accoglierlo in cielo per tutto il bene che ha fatto. Non è quello il motivo per cui qualcuno viene accolto in cielo, perché nessuno ha fatto abbastanza bene. non esistono sacramenti che possano farci arrivare a Dio. Dobbiamo arrivare per mezzo di Gesù Cristo. Quando consideriamo che la vita è un vapore, ho davanti a me un uomo che ha 50 anni da poco. E io mi ricordo quando ho compito 40 anni e poi 50 anni ancora di più che mi faceva pensare alla brevità della vita. 50, veramente, ma 40 già, ma a 50 anni ho detto, caspita, 50 anni. Cioè, 50 anni, non credo di raddoppiare gli anni che ho. E mi ha fatto proprio pensare che la vita è un vapore. Allora non devo sempre arrivare. La vita non arriva sempre a 50 anni. Arriva a volte molto di meno. Ma che arriva a 12, che arriva a 99, la vita è un vapore. E quello che vale più di qualsiasi cosa è di avere la vita eterna. Ma la vita eterna non vuol dire solo vivere per sempre. In un certo senso tutti vivranno per sempre. Tutti vivranno per sempre. Chi è in tormento? Perché dice in Apocalisse che la morte non ci sarà più. La morte viene gettata in un lago di fuoco che uno non può morire. Sarà in tormento senza la prosperità di morire. Quella è una esistenza terribile che sarà per la maggioranza delle persone nel mondo. Ma poi c'è la vita eterna che è vivere con Dio per tutta l'eternità, in gioia, avendo vittoria completa il suo peccato. È una gioia completa. La vita eterna è vivere con Dio per tutta l'eternità, che vuol dire essere riconciliati con Dio in questa vita. Perdonate dai nostri peccati. Allora voglio leggere 11 e 12. Primo Giovanni 5, 11 e 12. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Quando abbiamo le testimonianze di Dio in noi, la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. La vita è in Gesù Cristo, il figlio di Dio. La vita eterna è in Gesù Cristo. Come detto prima, la vera salvezza è solamente e unicamente e totalmente in Gesù Cristo. Non vuol dire solo vivere per sempre, vuol dire veramente conoscere Dio. Nella Bibbia, conoscere qualcuno. Adamo conobbe sua moglie. Conoscere nella Bibbia non viene usato per sapere intellettualmente di quella persona. Conoscere parla di un rapporto, un rapporto intimo, un rapporto di amore. E la vita eterna è conoscere veramente Dio e Gesù Cristo. Leggo quello che Gesù prega. Giovanni 17, appena prima di finire, per andare al giardino, per essere arrestato e mandato alla croce. Avendo finito con gli Apostoli, Gesù prega. Giovanni 17, 1. Queste cose, disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato poteri sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. La vita eterna è conoscere veramente Dio, conoscere veramente Dio, essere in un rapporto diretto e personale con Dio, un rapporto in cui Dio ci ama, un rapporto in cui abbiamo libero accesso a Dio. Questa è la vita eterna e è un dono da Dio. Il brano dichiara che Dio ci ha dato la vita eterna. Non è qualcosa che abbiamo guadagnato. Non ci siamo arrivati, non l'abbiamo meritato. Eravamo perduti nei nostri peccati, separati eternamente da Dio a causa del nostro peccato. Ma Dio ci ha dato la vita eterna, mandando Gesù Cristo a prendere il nostro peccato per riscattarci dalla condanna eterna. Quanto è fondamentale che ricordiamo quello che dichiara questo versetto, che la vita, la vita eterna, è nel Figlio di Dio. La salvezza è totalmente in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E questo ci porta al versetto 12, che sottolinea la verità che la vita eterna è totalmente in Gesù Cristo. Leggo di nuovo il versetto 12. Chi ha il Figlio, ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. Molto categorico. Chi ha il Figlio, avere il Figlio, vuol dire avere Gesù Cristo in te. Vuol dire appartenere a Cristo. Vuol dire essere stato battezzato in Cristo in modo che la sua morte conta come la tua morte. In Galiti 2.20 l'Apostolo Paolo dichiara quello che è vero per ogni vero credente. Seguite mentre leggo. Io sono stato croccio fisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Perché le religioni insegnano come vivere. Insegnano a volte i comandamenti di Dio. Bisogna fare questo, non uccidere, non mentire, amare il tuo prossimo. Come se fosse possibile. Arrivare a Dio per il nostro impegno, con le buone opere. Ma non è possibile, è impossibile, perché nessuno riesce a seguire i comandamenti pienamente da solo. Il salario del peccato, siamo tutti peccatori, tutti hanno peccato e sono privi del corredo di Dio. Il salario del peccato è la morte, separazione da Dio. È impossibile per noi di salvare noi stessi. In contrasto, Dio ci insegna che la vera vita, la salvezza, non è in base a quello che facciamo noi. È in base a quello che ha fatto Gesù Cristo, nella sua morte, nella risurrezione. E la salvezza è non per chi vive meglio e pecca meno. La salvezza è per chi riceve Gesù Cristo, chi ha Gesù Cristo. C'è salvezza solo in Cristo Gesù. Atti 4. Pietro, parlando con il Sinedrio di come avevano guarito un uomo, e lui dichiara, Atti 4.10, «Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò che è stato fatto nel nome di Gesù Cristo Nazareno, che voi avete crocefisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in virtù di Lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. «Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo, e in nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che si è dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Solo in Gesù Cristo c'è la salvezza, solo. Non è che ci sono varie vie che portano a Dio. Non esiste un'altra religione che porta a Dio. Gesù dice «Io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Gesù Cristo è l'unica via alla salvezza, alla vita eterna, ad essere riconciliati con Dio. Chi non ha il figlio di Dio, anche se è una buona persona al metodo umano, anche se ha fatto tante opere buone, per quanto potrebbe essere religioso, magari ha sofferto molto, «Ah, ma Dio ha visto quanto ha sofferto!» Non è quello. Chi non ha il figlio di Dio, Gesù Cristo, come il suo Signore Salvatore, non è salvato. La salvezza è totalmente legata e dipende totalmente dal vero Gesù Cristo, il figlio di Dio, con te nella tua vita. Allora passiamo ad una verità meravigliosa che può darci grande gioia. Vediamo ora delle verità meravigliose della Bibbia e quando consideriamo che la vita è un vapore, che sta per finire, che ci troveremo davanti al giudizio e che dopo il giudizio c'è un'eternità o di tormento o di gioia, la cosa più importante in assoluto è di avere la certezza di avere la vita eterna, stare con Dio. Cioè, se tu non sai con certezza di avere la vita eterna, non è possibile avere pace, non è possibile avere vera gioia. Se davanti a te c'è la possibilità di trovarti nel tormento eterno, null'altro importa. Che importa? Se sei bravo a fare questo o quell'altro e le persone ti danno grandi apprezzamenti, che importa se hai una vita con un lavoro non troppo pesante e riesci a fare quello che desideri, che importa se dopo avrai il tormento eterno? Gesù dichiara in Marco 8,36 Se tu sai per perdere l'anima, ma non importa tutto il resto. Perciò sapere con certezza di avere la vita eterna, ovvero la vita con Dio in cielo e in gioia, è la cosa più importante. E adesso nel versetto 13 Dio tramite Giovanni ci dichiara che possiamo sapere di avere la vita eterna. Seguitemente leggo il versetto 13 e poi consideriamo questa verità meravigliosa. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del figlio di Dio. Prima di tutto Giovanni dichiara che ha scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio. Che cose sono queste cose? Cosa ha scritto Giovanni? In questa pistola, che cosa ha scritto? Se ricordo il numero 13, credo, ma ha scritto prova dopo prova dopo prova per verificare se tu sei veramente salvato. Ha scritto le prove per verificare quello che è o non è la vera salvezza. Non leggo tutti ma ne leggo alcuni. Leggo 1 Giovanni 2, 4, 5 Conoscere Cristo sarebbe essere salvato. Chi dice Io l'ho conosciuto e non osserva i Suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in Lui ma chi osserva la Sua parola l'amore di Dio in Lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Dire io lo conosco vuol dire io sono salvato ma se tu non osservi i Suoi comandamenti sei bugiardo tu non lo conosci non sei salvato. Capitolo 3, versetto 19 E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui poiché se il nostro cuore ci condanna Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi se il nostro cuore non ci condanna abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite e questo è il Suo comandamento che crediamo nel nome del Suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio ed è lì in Lui e da questo sappiamo che Egli dimora in noi dallo Spirito che Egli ci ha dato. Un'altra prova che comprende osservanza dei comandamenti comprende amare gli altri credenti comprende credere veramente nel Figlio Gesù Cristo che Gesù è il Figlio di Dio. C'è anche capitolo 5, 1 e 2 Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che l'ha generato ama anche chi è stato generato da Lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Questa è un'altra prova. Ci sono vari altri e un'altra ancora versetto 5 capitolo 5 Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Allora non sto qui a rileggere tutte le prove ma quello che Giovanni ha scritto sono le prove. Sua pistola principalmente sono le prove per verificare se uno è veramente salvato o no. E allora nel piano di Dio è possibile sapere di essere veramente salvati. Non è solo possibile ma è anche importantissimo sapere di essere veramente salvati. Come si potrebbe avere gioia? E pace senza sapere di essere salvati? C'è sempre il dubbio forse non sono salvato forse sì forse no ma non si può avere pace sapendo che forse a giudizio scoprono di non essere salvato vengo mandato al lago di tormento di fuoco no possiamo e dobbiamo sapere di essere veramente salvati. Questa epistola è stata scritta specificamente per farci vedere le prove che servono per sapere che siamo salvati. Però notate che sapere di avere Cristo richiede di superare le prove. Cioè ci sono le prove ma poi devo valutare ma io supero le prove? cioè le prove sono lì perché questo è il modo di sapere vi ho scritto queste cose affinché sappiate cioè vi ho scritto come misurarvi affinché superando la prova possiate sapere di avere la vita eterna in Gesù Cristo. Anni fa quando ho fatto la scuola biblica ci hanno fatto un corso di come evangelizzare e ci hanno insegnato un metodo terribile in cui tu avevi una presentazione che durava cinque minuti e tu ti presentavi una persona e spiegava l'Evangelo e poi alla fine tu dicevi c'è un motivo per cui non vorresti tu andare in cielo? E la persona spesso ma no vorrei andare in cielo benissimo prega questa preghiera e c'era una preghiera prescritta che loro pregavano. Alla fine tu dicevi se tu hai pregato col cuore tu adesso sei un figlio di Dio poi dovevamo citare questo versetto per la prova vedi tu puoi sapere adesso tu hai pregato adesso tu sai che tu sei un figlio di Dio che è la vita eterna. Fratelli e sorelle questo è girare le scritture. Hai una persona che il 99% delle volte non aveva mai letto primo Giovanni e tu strapi questo versetto fuori dal contesto per affermare che visto che tu hai pregato la piccola preghiera che ti ho presentato o hai ripetuto dopo di me adesso tu puoi sapere che sei salvato. questa è un'abominazione questo è girare le scritture no la scrittura non sta dicendo quello minimamente dice vi ho scritto queste cose adesso torna a vedere queste cose esamiati alla luce di queste cose vi ho scritto queste cose affinché utilizzando queste prove potete sapere di avere la vita eterna o quanto è importante che non strappiamo versetti di qualunque versetto fuori dal suo contesto per farlo dire quello che non dice quindi Giovanni dà le prove della salvezza in questa pistola in modo che i veri credenti che supereranno queste prove possano sapere con certezza di avere la vita eterna e produce anche un altro frutto non solo sapere di avere la vita eterna cos'altro produce leggo di nuovo il versetto notate l'ultima parte ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del figlio di Dio ma scusami all'inizio dice voi che credete nel nome del figlio di Dio alla fine vi ho scritto affinché crediate nel nome del figlio di Dio ma già credono attenzione questo è molto importante nella salvezza tutto cresce all'inizio tu credi nel nome del figlio di Dio per essere salvato se no non sei salvato ma quella fede non rimane statico cresce negli anni tu abbandoni i tuoi peccati ravvedendoti ma non è che tu non rimani lì tu cresci nella santità dal primo giorno tu ami altri credenti ma tu cresci nell'amore e qui sta dicendo semplicemente voi che credete nel nome del figlio di Dio avete creduto per la salvezza sapendo di essere veramente salvati crescerete ancora di più nel credere nel nome del figlio di Dio tutta la vita cristiana è crescita perché Dio porta a compimento l'opera buona che inizia non è che salva e lo lascia qualcuno come un neonato che brutto se una neonata rimanesse sempre così serve terribile cioè quello che inizia come gioia diventerebbe una tragedia Dio non inizia la salvezza senza portarla a compimento e perciò vuol dire aumentare anche la fede in Gesù Cristo quindi in questo brano abbiamo visto che possiamo fidarci della testimonianza di Dio possiamo gli uomini sbagliano a volte perché sono malvagi a volte perché fanno errori Dio non fa errori e Dio non è malvagio Dio dice la verità sempre assolutamente possiamo fidarci della testimonianza di Dio in tutto ma specificamente per quanto riguarda il suo figlio Gesù Cristo che è la salvezza la salvezza è in Gesù Cristo e possiamo prendere questa pistola lo scopo di questa pistola e per noi di esaminarci ma io a volte dico lì manco cosa devo fare allora non sono salvato cosa devo fare quando vedo una mancanza così dice questa pistola chi dice di essere senza peccato la verità non è in lui piuttosto chi confessa il suo peccato credente per andare credenti Dio è fedele e giusto da perdonarlo perdonarci e purificarci da ogni iniquità quindi se esaminandoti che è importante fare riconosci un campo o due campi dove no signore qui non posso dire sì io vivo così confessa il tuo peccato per vivere così perché Dio quando perdona purifica permettendoci di camminare in novità di vita o che possiamo esaminarci e o che possiamo dire signori signori per grazia è tutto grazia io supero le prove io sono salvato in Gesù Cristo la opera di Cristo vale per me e che possiamo sapere senza ombre di dubbio che abbiamo la vita eterna che questo possa stimolarci ancora di più a vivere in attesa di Gesù Cristo preghiamo Padre vogliamo esaminarci è fondamentale esaminarci questo versetto 13 che possiamo sapere non è per chiunque è per chi si esamina in base alle prove che Giovanni ci ha dato in questa pistola e riconosce che per grazia supera l'esame certamente abbiamo cadute ma abbiamo un gran sommersaciodote un avvocato presso il Padre e per mezzo di Lui possiamo confessare ogni volta che cadiamo ma possiamo camminare se siamo salvati cammineremo nella verità e così possiamo sapere di avere la vita eterna grazie che la tua testimonianza è verace è affidabile è sicura crediamo agli uomini quanto di più possiamo credere alla tua testimonianza e non saremo mai delusi a volte credendo agli uomini restiamo delusi nessuno resterà deluso credendo in te oh grazie ti lodo tu solo sei Dio tu solo potevi creare una salvezza che manteneva la tua giustizia che doveva punire il peccato ma manifestava il tuo amore che volevi salvare ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo Amen Amen